La forza di gravità è il collante che lega insieme le stelle, le galassie e i sistemi planetari e tra le altre cose lega anche noi esseri viventi alla superficie del nostro pianeta, la Terra, attirandoci sempre verso il basso e dando in un certo senso una direzione spaziale alla nostra vita. Siccome la forza di gravità ci attira sempre verso il centro della Terra, potremmo essere portati a pensare che più ci avviciniamo al centro, più la forza di gravità è intensa. Però in realtà non è esattamente così e nel video di oggi vediamo il perché. Se ti piacciono le scienze planetarie e l'astronomia puoi continuare a seguirmi iscrivendoti al canale e attivando la campanellina. Inoltre puoi continuare a seguirmi anche su Instagram e sugli altri social, trovi tutti i link in descrizione. Quando un fisico deve affrontare un problema, qualunque sia la sua complessità, tende sempre a partire dai casi più semplici possibili, quelli che gli sono più comodi. dopodiché li va a complicare a piacere per ottenere una descrizione soddisfacente della realtà. Ed è proprio quello che faremo anche oggi. Ossia partiamo dal caso in cui la Terra sia perfettamente sferica e omogenea, ossia non abbia variazioni di densità e di composizione al suo interno. Sì, forse stai pensando, ma la Terra non è già sferica? Beh, in realtà è quasi sferica, ma non è proprio sferica. Più propriamente simile a uno sferoide oblato, ossia una sfera che è schiacciata ai poli e allargata dall'equatore. E inoltre c'è tutta una irregolarità della superficie dovuta alla presenza di rilievi, di depressioni, al fatto che le rocce sono variabili sulla superficie terrestre. Quindi ci sono alcune parti che sono più dense e quindi hanno più massa e altre che sono invece meno dense. Quindi noi ci mettiamo nella situazione in cui la Terra sia sferica e omogenea, ma la Terra non è esattamente sferica e non è propriamente omogenea, anzi non è quasi per niente. Però per risolvere il nostro problema è una situazione che ci fa comodo e che ci permette di dare una risposta semplice a questo problema. Una massa qualunque, come ad esempio la Terra o un altro corpo celeste, attrae a sé tutto ciò che la circonda attraverso la forza di gravità. Questa forza chiama in ballo la relatività generale, ma nel caso più semplice in cui ci siamo posti, ossia quello di una Terra completamente sferica e omogenea, la gravità è ben descritta dalla legge di gravitazione universale di Newton. Se la Terra è sferica e omogenea, e se inseriamo un corpo altrettanto sferico, per esempio una biglia, nella sua sfera di influenza gravitazionale, tale corpo subisce la forza come se la massa della Terra fosse integralmente concentrata in un solo punto, nel suo centro. La legge di gravitazione universale descrive la forza gravitazionale esercitata tra la Terra e la biglia. Tale forza dipende unicamente dalle masse dei due corpi e dalla loro distanza reciproca. Siccome le masse sono fissate, il valore della distanza dal centro della Terra è l'unica cosa che può variare. Si dice allora che la forza di attrazione gravitazionale si riduce con la distanza, ossia più la massa della biglia è lontana dal centro della Terra, molto meno intensa sarà la forza con cui la Terra la attrae. Se mettiamo la biglia esattamente sulla superficie terrestre, la distanza tra il centro della Terra e la biglia è esattamente il raggio della Terra, e la forza gravitazionale con cui si attraggono è proprio quella che percepiamo anche noi esseri che vi camminiamo sopra. La legge di gravitazione universale, nel caso di una Terra perfettamente sferica, è valida sicuramente dalla superficie terrestre fino a una distanza infinita, dove la trazione gravitazionale è nulla. Ma se proviamo a spostarci all'interno della Terra, immaginando che la nostra biglia si possa posizionare in un punto qualunque del pianeta senza venire distrutta, come facciamo ad affrontare il problema? In generale, se ci sono più masse nello spazio a generare campi gravitazionali, la forza di gravità che la nostra biglia subisce è data dalla somma delle forze legate a queste diverse masse. Quindi in realtà possiamo fare un'operazione che ci aiuta nel calcolo, ossia scomporre la massa della Terra in due parti. La massa che si trova più all'interno nella Terra rispetto alla posizione della nostra biglia è quella più esterna. Quindi possiamo valutare qual è il contributo alla forza di gravità nella posizione della biglia dovuta a queste due masse, la sfera interna e il guscio sferico che l'avvolge. Per la sfera interna è estremamente semplice, perché questa è come se fosse una Terra più piccola, semplicemente che è contenuta all'interno della Terra, per cui le leggi della gravità sono esattamente le stesse che avevamo sulla superficie della Terra, semplicemente con una massa minore all'interno e quindi con una trazione gravitazionale minore rispetto a quella che abbiamo sulla superficie della Terra. Per quanto riguarda il guscio esterno, le cose si fanno invece un po' più complicate. Per il guscio sferico possiamo ragionare diversamente. Possiamo immaginare che la forza di gravità che la biglia subisce è data dalla somma della forza di gravità che ogni particella del guscio esercita sulla biglia. Ognuna di queste particelle si trova a una distanza diversa dalla biglia e pertanto esercita una forza di gravità differente su di essa. Le particelle più vicine eserciteranno una forza più intensa, quelle più lontane una forza meno intensa. Questo problema è risolto dal cosiddetto teorema dei gusci, posturato dallo stesso Newton. Secondo questo teorema, un guscio sferico non esercita alcuna forza gravitazionale sui corpi che vi si trovano all'interno. Ogni sezione del guscio attira infatti verso di sé la nostra pallina, ma per ogni sezione venne un'altra dal lato opposto del guscio che attira in misura uguale e contraria la biglia dall'altra parte. Otteniamo quindi un risultato intuitivamente sorprendente. Il guscio sferico non genera alcuna attrazione gravitazionale e solo la massa interna della Terra la genera. Di conseguenza, la risposta alla domanda iniziale è che siccome solo la massa interna conta ai fini gravitazionali, più andiamo sottoterra più l'attrazione gravitazionale è debole. Mettiamoci un secondo in un caso molto particolare. Se la biglia si trovasse al centro esatto della Terra, cosa potrebbe succedere? La biglia al centro della Terra non subirebbe alcuna accelerazione gravitazionale, come se si trovasse al centro di una corda durante un tiro alla fune e tutti i concorrenti avessero una forza uguale. Non significa che al centro della Terra la forza di gravità non ci sia, ma che la forza totale subita dal corpo è nulla, perché è attirato in ogni direzione in ugual misura. Come dicevo all'inizio, questo problema si potrebbe andare a complicare a piacere per andare a considerare la reale forma della Terra e la reale densità della Terra sulla sua superficie e al suo interno. Tuttavia, questi fattori andrebbero a incidere sulla modalità con cui la gravità diminuisce andando verso il centro della Terra, ma non sul fatto stesso che la gravità diminuisca. E anche per oggi questo era tutto quello che volevo dirvi. Spero che il video vi abbia incuriosito e vi sia piaciuto, anche se mi rendo conto che in alcuni punti era un po' articolato. In ogni caso fatemelo sapere tramite un commento, così so anche come migliorare e aggiustare il tiro per i prossimi video. E comunque vi invito nuovamente, se vi piacciono tente di questi argomenti, ad iscrivervi al canale e attivare la campanellina, a seguirmi su Instagram e sui altri social e a dare un'occhia in descrizione perché vi lascio un po' dei link. Ciao e al prossimo video!